Cittadini di Gradara in rivolta al cospetto del via al cantiere per l'installazione di una torre di telefonia in via Mortola destinata a sorgere a pochi metri dal quartiere più densamente popolato del paese. Sono già più di 800 le firme raccolte in una petizione che vuole scongiurare l'installazione dell'impianto. Una mobilitazione alla quale solidarizza con preoccupazione anche il comune di Gradara, ritenutosi parte l'ESA di un sistema di installazione che continua a bypassare limiti e necessità degli enti locali. Ci siamo trovati da un giorno all'altro a vedere l'allestimento del cantiere con i lavori. Non sapendo che cosa fosse abbiamo chiesto agli operai che lavoravano e ci hanno detto che avrebbero installato questa maxi antenna 5G che arriverà a circa 30 metri di altezza che si trova proprio vicino al quartiere più popoloso del nostro paese di Gradara e nell'immediata vicinanza delle nostre case dei residenti che abitano qui in via Mortola. Qui di fronte abbiamo un terreno di più di 20 ettari, sinceramente non abbiamo mai saputo nulla fino al giorno in cui abbiamo visto i lavori e questo ci ha dato molto fastidio e sinceramente non ce l'aspettavamo che venisse installata un'antenna così grande alle porte del nostro comune che non è un bel biglietto da visita per tutte le persone che arrivano e in più a maggior ragione con un terreno così grande di più di 20 ettari qui davanti a casa nostra io penso che si poteva trovare un'altra soluzione per non dar fastidio a nessuno o a meno persone possibili anche visto che vicino a noi ci sono le scuole e c'è il barco pubblico dove giocano i bambini. Il cittadino deve essere informato, non può essere messo nell'angolo quando fanno questi interventi dove il diritto dei cittadini deve essere rispettato, deve essere informato prima che comincino a deturpare il territorio. Incominciamo ad avere una giurisprudenza con qualche sentenza di qualche tar che sostengono che sia la vicinanza alle abitazioni ma anche la vicinanza ai complessi scolastici da parte di queste torri che hanno un'altezza elevata, una potenza di un certo tipo non sia né sano e quindi possa minare il diritto alla salute di questi abitanti ma soprattutto dei bambini e non sia anche dal punto di vista in questo caso paesaggistico è sia una grave violazione del diritto al paesaggio che comunque i cittadini hanno puoi piazzare le antenne dove vuoi. Noi siamo stati avvisati come comune all'ultimo queste aziende qui arrivano, passano tramite il swap e bypassano un po' tutte le autorizzazioni comunali il comune è stato uno spettatore noi abbiamo saputo a fine gennaio che avrebbero fatto questa installazione noi abbiamo chiesto se poteva essere spostata, c'è stato risposto solamente di no e neanche 20 giorni dopo hanno già iniziato a fare i lavori noi un regolamento non l'abbiamo, gradare alle antenne ne abbiamo una solamente a Granarola e niente adesso ci attrezzeremo subito abbiamo già incaricato, incaricheremo al più presto una ditta per fare un piano di queste antenne su dove era possibile installarle io avrei preferito che almeno questi operatori fossero venuti da noi avrebbero magari condiviso anche se questo è un terreno privato dove il comune non ha competenza però almeno potrebbero aver condiviso, sarei stato più felice se ci avessero chiamato e ci avessero detto guarda abbiamo intenzione di installarla lì così non è stato adesso questa sera faremo un consiglio straordinario proprio per ribadire la nostra posizione dove diciamo che non ci piacciono queste antenne così vicino alle case noi non siamo contro la tecnologia però noi vorremmo che almeno fossero un po' più distanti e non causassero dei problemi ai cittadini